Grazie a tutti. Ormai è arrivato. Come sapete benissimo ci sarà un secondo volume visto che in fondo a questo c'è scritto continua. È molto introspettivo il modo di scrivere di Piperno. È uno che scava dentro nel profondo alle persone e facendolo appunto deve fare i conti con ciò che dentro ci rende più vulnerabili, ovvero sia la vergogna. Quello che voglio dire è che quando parlo di colpa e di vergogna intendo esattamente questo. C'è uno scotto, un deficit che tu devi pagare con il mondo da fuori. Il mondo da fuori è un posto potenzialmente ostile che deve assolutamente accettarti nei confronti del quale ti senti straordinariamente inadeguato, quindi devi fare sempre un po' più di quello che ti viene chiesto. Ed è un atteggiamento che ho cercato in ogni modo di riversare nel personaggio del mio romanzo, Leo Montecorto, il quale coltiva questo sentimento in nuce e che vede esplodere un certo momento nel momento in cui qualcosa nella sua vita cambia. Un altro meccanismo che ho messo in moto e che mi pare che ci riguardi tutti e cioè il fatto che a dispetto di quello che si creda le nostre vite sono sostanzialmente governate dall'imponderabile. Noi abbiamo un'idea quasi sartriana di essere protagonisti della nostra vita, cioè che le cose avvengano perché noi vogliamo che avvengano e avvengano in un certo modo perché abbiamo lavorato finché avvenissero in un certo modo. Ma in realtà la vita è completamente affidata alla casualità dell'imponderabile e quindi quest'uomo nel fondo sono contento di lui perché in fondo credo di essere riuscito a creare un personaggio simpatico dove in realtà molto spesso i miei personaggi sono accusati di essere molto antipatici, è un bravo uomo soddisfatto e via dicendo, improvvisamente incontra quello che può succedere là fuori e cioè il fatto che qualcuno ti accusa ingiustamente probabilmente perché là fuori c'è un'incredibile voglia di risentimento e la vittima della vergogna e dell'imbarazzo non riesce in alcun modo a parare i colpi. Non solo ma avendo questo senso di colpa, quello del tassista, crede in fondo in fondo di meritarselo. Per me la letteratura è vergogna e quindi come dire dico tutto sputtanando i miei familiari, i colorini e dico tutto fino in fondo, non nascondo niente e paradossalmente è un modo per nascondere tutto perché non so come dire, vi dico tutto io quindi voi non avrete niente da dire. Non c'è niente che io vi ho detto che voi potrete dirmi di male perché ve lo sto mettendo lì e allo stesso tempo però ho la sensazione che farlo in una forma che sia severa, che tenti di essere bella, che sia piacevole, che vi aggioia, sia una risorsa importantissima. Non so, non so, devo dire che lo capisco adesso retrospettivamente quanto per me scrivere sia importante per questo fatto qua. È l'unico luogo in cui mi sento a mio amico. Grazie. Grazie a tutti.